Ringrazio Banca Mediolanum, in particolare nella persona di Marco Franzoni, per questo contributo. Sicuramente è un'iniziativa molto importante che ci dà grande orgoglio. Da parte mia è il primo anno che mi trovo a premiare questa iniziativa, in cui secondo me c'è tutto quello che dovrebbe avere il settore giovanile. Il settore giovanile deve essere premio tutto educativo e formativo. Qui vengono premiati ragazzi che si sono distinti per comportamenti, per atteggiamenti, per modo di essere anche e soprattutto extra calcistici, extra sportivi. E quindi è un orgoglio per noi e soprattutto un orgoglio per i ragazzi e per le famiglie che oggi li hanno accompagnati in questa iniziativa, in questa premiazione, che per me da genitore, secondo me, deve essere motivo di orgoglio. Per me è un grande piacere poter rinnovare anno dopo anno questa iniziativa, a cui tengo molto. Tengo molto al discorso, anche al settore giovanile, che diciamo un po' che è come ritornare sul territorio, quello che il territorio dà. Poi anche il format è particolarmente interessante perché va a premiare gli atleti più meritevoli, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista scolastico e anche tutto quello che gira intorno a quello che è l'attività sportiva. Questo va un po' nella stessa direzione dei valori che si cerca di portare, che anche il marchio della mia banca cerca di portare. è quello che, oltre all'altruismo, di collaborazione e di creare nell'insieme qualcosa che possa essere importante non solo nell'attività sportiva, ma bensì oltre che in quella familiare, anche in quella sociale.